Allora ore 8 e 30 che temperatura ci sarà meno 15 almeno partenza da Engelho Allora ore 9 e 30 che è freddo, è freddo Grazie Grazie Ed ecco l'arrivo di destra Intruto sonoro Direi da Romano la sua schiena il suo fondoschiena provati veramente una bella gita compagnia straordinaria gente eccellente adesso ti stiamo facendo vedere il cielo nuvole assenti un cielo in gran forma perfino Seregni andava benissimo Siamo in cima e riusciremo a fermarci magari anche ci vediamo più in più Esatto Abbiamo anche riflettuto sugli aspetti elettorali abbiamo capito che Morandotti vuol venire a votare in Svizzera nella Penzell ma che belle quelle cibi qui è bellissimo questo è il Vallese eccoci qua eccoci qua eccoci sulla vetta eccoci qua 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 tutto bene eccoci qua goduria bella neve un po' crustosa ecco le nostre auto ecco le nostre gite si comincia qua giù in valle risalita questo è un bel pendio poi la discesa da quel bel pendio marcato mentre la salita è dietro quel crostone lì si vede sulla cima si vede un piccolo ripetitore radio del Galen Horn bellissimo tu contento bestia